Ci ha ripetuto tanto, in seguito alla live abbiamo fatto l'altro giorno quella follia assoluta, no? Però, non ci fate caso. Fanno schifo tutti le cari. Hello! Eh? Ma scusa. Guarda che... vabbè. C'era in Perù. Mentre mangiavo la lasagna c'era il TG e sul TG c'erano terremoto, persone senza una casa, ma il gabbrone è caduto dalla bici. Ah no. Allora bisogna subito mobilitarsi. Quindi dobbiamo subito vedere questo video. Ma qualcuno l'ha rialzato? No. Ottimo. Gabbrone cade, fa un volo pazzesco dalla bicicletta e spacca il telefono. Vabbè, andiamo, vediamo. Oh! No! Però con il sorriso, eh. Con il sorriso. Ma lei è il gabbrone, zio. Come non è il gabbrone? Ma questo non è il gabbrone. Oh, chi è? Pensate a un Armstrong, ad esempio. Louis Armstrong? No. Neil Armstrong? No. E chi? Lance Armstrong. E chi è? E chi cazzo? Lance. Lance Armstrong. Lance Armstrong. Lance. Ah, Lance. Lance a braccio forte. Lance che ha fatto. Ah, vabbè, ma ci siamo sbagliati. Era quest'altro link del gabbrone. Lance o Corona. Chi è? Ce l'abbiamo? Non è il gabbrone. Eh. Eh, ci siamo sbagliati. Un refusa. Io oggi sto un po' confuso. No, già lui. È un link che... Ce l'abbiamo o no? Porca cazzo, puttana, questo... Oh! Questo gabbrone. Cazzo. Oh! E non lo so, Dave, una metà del tempo. Ma chi era? Ma chi era quello di prima? Ma chi era quello di prima, Dave? No, ma te lo vieni che c'è sta il gabbrone. Oh! No, chi cazzo sei? Che cazzo sono? Ho perso la mia identità. Benvenuto nel club, amico. Ma chi siamo noi? Dei pezzi di merda. Ma chi siamo? Ma il buio è bello, da. Il buio non è male. Non è male. Tra-missio-ne! Tra-missio-ne! Bambino, c'è... Oh! Anvedi, che roba. Andiamo. Anvedio. Ma torniamo alle fantastiche avventure del mondo di Kitano. Era un mondo fantastico, pieno di droga, divertimento, ma a un certo punto la donna è arrivata e ha fatto un casino. Ha distrutto tutto. Quella dannata donna. Perché la maggior parte, tra un po', boh, te piano. Che droga, non ha fatto tutto. Ma quanto costa la vita da single? Eh? Eh? Quanto costa? Quanto costa la vita da single? Ma che bello. Quanto costa questa vita da single? Perché è facile di essere single! Ha 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 ha! Eh? Però... Quanto costa, poi? Pazzo. Ma di che cazzo stavate parlando? Era un rieffidio. Di che cosa stavate parlando? Della bamba. Della bamba. Eh? Ma io ho capito male. Io pensavo della samba. Heavy samba. Heavy samba. Per tenerti sempre in gamba. No, 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 no. La bamba. La bamba! C'è Luca la bamba! Oh! Di cose importanti! Grazie per le sub. Sento la battuta, però... Perché... Perché... Perché guardate me? Io non... Ma guarda che dietro un animale c'è sta comunque un essere umano, eh? Ha voglia. No, no, ne ho visti. Di esseri umani con dietro animali. No, no! E lascia questa... E dai! Carissimo! E però... E carissimo! Dai! Cosa? Vabbè, che è? Lasciate che sta! Non è che sei stualizzato però, Simone. Cioè, devi aspettartelo. Eh, capito? Sì, sì, sì. Riprova. Eh? Riprova. Montone. E dai! E dai! Come avrebbero detto all'Istituto Luce, no? La famiglia tradizionale. Non ho detto questo. Il papà, la mamma e il frugoletto. Il giovane virgulto. E... in quel momento cioè tipo se sto fan nove ore il lavoro non bilita l'uomo si e rende liberi eh no tu tu ci hai detto una cosa greve no no aspetta aspetta ma che ho detto ho detto l'hai sentito pure tu ma questo ragazzi noi ne parliamo solamente sul sito nero Ariani no 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 questa matita ovviamente non è flessibile posso controllare minaccazzatura queste vengono dallo stesso dallo stesso pacchetto controlla minaccazzatura queste vengono dallo stesso dallo stesso pacchetto controlla minaccazzatura dallo stesso 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 qui notiamo una palese somiglianza con francesco mandelli qua vedi qua si distorce Si distorce lo spazio-tempo Si vedi che è con l'immagine Tutta in malforme Ma questa è la prova fotografica Che il tempo e lo spazio sono stati Tutti distorsi La riformazione facciale, quella tipica Qua aumenta Porca noia Sganotta No regà, si sta Sta piegando lo studio, sta crollando tutto Regà, sta crollando lo studio No, no, porca no Intervengo io Ho io il potere adesso No Andate a far culo, pezzi di merda Nel nome Dell'amore Del signore pensavo Osanna Il signore fuciò lo stesso Paura Osanna Cristo signor Osanna Paura Osanna E Osanna Osanna Cristo signor Il cavo HDMI tra poco si stacca Il pilipiliplu Hello Sono successe le cose fantasmagoriche A chi? A chi? Al gabrone Al gabrone Al gabrone Che cade dalla bici Ma come? Ma sti cazzi Ma chiudiamolo Sti cazzi Ma che è sta roba? Oh